Una ragazza di soli 16 anni, Andrea Elena Roma Nasu, è morta dopo un tragico incidente stradale avvenuto a Palermo, nella zona del centro commerciale Forum. L'auto a bordo sulla quale viaggiava la giovane ha urtato più volte contro il guardrail. Andrea è stata svalzata fuori dal veicolo ed è finita sull'asfalto, la sedicenne viaggiava su una 500 guidata da un altro ragazzo.